amici di Arezzo TV ben ritrovati un altro appuntamento un altro spazio intervista in questi giorni quest'oggi siamo collegati con l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli benvenuto buonasera buonasera a tutti dal Casentino immagino sì sì sono a casa come da disposizioni mi muovo pochissimo solo per andare in ufficio ogni tanto giusto giusto così allora cominciamo assessore da da un quadro chiaramente c'è molta preoccupazione non solo chiaramente per le notizie che arrivano dei nostri territori per quello che accade nel nord ecco voi regione come state vivendo anche da da protagonisti delle istituzioni queste emergenze beh con preoccupazione ma cercando di fare di tutto perché la gente si muove almeno possibile vengono rispettate le norme nazionali venga rispettata l'ordinanza del presidente della regione che eh è praticamente barricato nella sala di crisi chiamiamola così in contatto continuo con gli ospedali con tutti i rappresentanti della sanità sta cercando di reperire eh le mascherine più possibile e comunque dispositivi da poter eh dare a al personale della sanità è attiva anche la protezione civile anche la protezione civile ha distribuito le mascherine per quanto riguarda il volontariato una parte sono riuscito anche ad averle per darle ai ai guidatori dei mezzi di tpl perché le aziende hanno fatto gli ordini ma alcune non eh avevano avuto le consegne e quindi in attesa delle consegne abbiamo cercato anche di dare una risposta a loro perché è chiaro che quelli della sanità che oramai tutti eh come dire definiscono con grande ammirazione degli eroi sono i più esposti ma anche eh gli autisti dei mezzi pubblici chi sta eh magari nei negozi nei supermercati è sicuramente molto eh esposto ai contatti e sappiamo che invece per interrompere l'aggressività del virus la cosa più importante è quella di non avere contatti quindi o stare il più possibile a casa oppure mantenere il distanziamento che è previsto eh quindi c'è praticamente tutta l'attività della regione che nel rispetto dei dispositivi tra l'altro a moltissime persone oramai in telelavoro che è quasi esclusivamente concentrata sulla gestione eh di questa emergenza che è un'emergenza alla quale nessuno mai prima si era trovato a dover far fronte. Ecco è attesa anche una stretta da parte del del governo ulteriore eh si parla soprattutto riguardante le attività all'aria aperta ma non solo eh anche il governatore Rossi auspica questo tipo di diciamo di ulteriori restrizioni? Beh questo è quello che anch'io sento soprattutto in tv e credo che eh i livelli di emergenza che sono stati raggiunti soprattutto al nord eh inducono ho sentito i presidenti di regione molti sindaci ad eh a chiedere ulteriori restrizioni eh per quanto riguarda la Toscana ovviamente ci rimetteremo a quelle che sono le disposizioni nazionali eh per ora direi che eh la gente ha iniziato veramente ad avere consapevolezza del rischio e anche a rispettare sufficientemente le norme eh io spero che non ci sia bisogno di ulteriori restrizioni spero che tutti quanti rispettino eh molto dettagliatamente quelle che sono non solo eh le norme di legge a questo punto ma anche quelle del buon senso e quindi muoversi solo per motivi indispensabili e soprattutto mantenere il distanziamento e anche utilizzare i dispositivi di protezione per chi eh riesce ad averli eh tra l'altro per quanto riguarda le mascherine come oramai noto eh la regione ha cercato di attivare eh da una parte aziende toscane che si sono offerte anche in grande numero per poterle eh realizzare eh sono stati inoltrati eh le inoltrate le specifiche che devono essere eseguite per la realizzazione che quelle per la protezione civile eh sono in un modo quelle che eh devono servire per la sanità sono ancora più stringenti e quindi è anche iniziata questa questa produzione credo che nei prossimi giorni insomma eh le mascherine almeno il tipo chirurgico saranno in disponibilità eh per quanto riguarda invece quelle con i filtri l'fp2 e l'fp3 sappiamo che queste vengono costruite solo all'estero le gestisce in entrata la protezione civile nazionale che le ripartisce eh alle regioni a seconda del numero di cui eh ne dispone e a seconda delle esigenze sappiamo che queste invece eh sono sono poche tant'è vero che il presidente Rossi ha lanciato proprio anche un appello alle aziende eh perché eh chi ehm eh ne ha delle scorte o chi magari ha rallentato o fermato la produzione possa eh fare un prestito chiamiamolo eh d'onore alla sanità toscana e poi la regione provvederà a fargliele riavere quando la situazione eh sarà normalizzata. So che anche ad Arezzo alcune aziende orafe altre aziende hanno aderito a questo appello e questo fa molto piacere. Esatto e poi c'è stata anche la riconversione momentanea no di alcune aziende dei casi positivi eh proprio anche dalla provincia eh di Arezzo. Eh mi chiedevo sui treni dei pendolari e come stanno andando le cose eh anche sul rispetto insomma di di quelle che sono le le precauzioni. Io vi chiedo scusa ma sento molto male una voce assolutamente a singhiozza e metallica. Credo di aver capito che la domanda riguarda i treni e comunque il trasporto pubblico in generale. Esatto esatto. Allora intanto intanto bisogna dire che eh la richiesta di trasporto pubblico è diminuita dell'ottantacinque novanta per cento perché il dovere stare in casa il telelavoro che stanno praticando molte aziende o le aziende pubbliche ha veramente ridotto assieme alla chiusura delle scuole eh l'utenza. Questo ha portato anche ad una rimodulazione dell'offerta eh siamo oramai circa al trenta per cento per quanto riguarda il ferro e al cinquanta per cento per quanto riguarda invece eh la gomma eh anche lì eh secondo l'ordinanza del presidente Rossi eh devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti eh quindi praticamente nei mezzi su gomma è dimezzata la capacità eh in quanto va rispettato il metodo di distanziamento quindi ogni due posti può salire una eh persona da un lavaggio e disinfezione alla fine di ogni di ogni eh turno comunque è chiaro che il eh scusate il trasporto pubblico locale continua a garantire un minimo eh essenziale perché eh chi deve andare a lavorare eh c'è anche chi non ha appunto la disponibilità o la possibilità di andarci in macchina proprio l'ordinanza del presidente prevede che devono essere privilegiati le connessioni con gli ospedali eh con altri poli strategici come quelli eh di inter connessione eh modale e devo anche ringraziare gli autisti tutto il personale che in eh questi giorni comunque ha continuato a dire a fare il proprio lavoro e essendo fra le categorie più esposte anche lì abbiamo lavorato per cercare di far arrivare le mascherine le aziende le hanno anche ordinate assieme a guanti assieme a dispositivi di protezione e in alcuni casi attraverso la protezione civile abbiamo cercato di anticipare questa questa consegna laddove ancora le forniture non erano arrivate a destinazione. Parlando invece di infrastrutture eh c'è stata la notizia su Ponte Bughiano lo sblocco dal Cipe dei primi fondi questa è una notizia importante per Ponte Bughiano. Sì credo che sia ripartito un iter eh importante che eh può veramente portare alla realizzazione del nuovo ponte quindi alla soluzione definitiva di un problema che aveva era stato iniziato ad affrontare nel duemilaquattordici quando la regione con una legge speciale ha destinato settecentomila euro per iniziare il restauro del vecchio ponte. Questi lavori furono appaltati dall'allora presidente Vasai continuati poi dall'attuale provincia e però a al di là eh dell'intervento sono stati importanti perché hanno permesso eh di conoscere qual è il vero stato di salute di di del vecchio ponte e della necessità eh di togliere il traffico e quindi di realizzare il nuovo eh attraverso un lavoro che è stato fatto dalla dalla provincia e poi eh dalla regione eh siamo riusciti intanto a catturare tre milioni e quattro che si sono aggiunti ai primi settecentomila euro che serviranno per la realizzazione di un guado provvisorio quindi in grado di scaricare il traffico dall'attuale ponte e poi un milione e tre per la realizzazione del progetto del nuovo ponte che tra l'altro sarà localizzato dove la provincia quando io ero presidente con l'ingegnere cardinali aveva individuato eh diciamo e posizionato eh il luogo dove poter realizzare il nuovo ponte ovviamente ora rimane dopo l'attribuzione dei fondi di sviluppo e coesione che sono eh fondi europei che possono essere assegnati soltanto con una accordo tra eh la regione e il ministero eh rimane la fase operativa prima la convenzione tra regione e ministero l'accordo di programma tra regione e provincia che sarà ente progettante ed ente attuatore e e poi una volta che ci sarà il progetto dobbiamo tornare alla carica assieme per vedere di avere il finanziamento anche del nuovo ponte occorreranno circa altri undici dodici milioni e poi parliamo della sentenza eh della TAR che ha dato ragione al gruppo francese sulla gara del trasporto pubblico regionale ho visto proprio delle sue dichiarazioni l'ha definita una sentenza limpida sì una sentenza chiarissima che riconosce in toto il lavoro fatto dalla regione eh la regione in questa gara molto complessa che eh è stata poi sub giudice per quasi cinque anni e ha rispettato le regole ha rispettato le leggi eh ci sono stati ricorsi a TAR al Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia Europea e tutti quanti hanno riconosciuto il lavoro impeccabile che la regione ha fatto io devo anche ringraziare tutti i tecnici la parte anche giuridica della regione perché questa gara è stata fatta tutto con personale interna e quindi trattasi di una gara che eh praticamente è su un bacino molto ampio credo che eh farà giurisprudenza in Europa e essere arrivati in fondo pur eh avendo se mi permettete perso quasi cinque anni è comunque una cosa importante ora credo che ci siano tutte le condizioni per andare alla firma del contratto con quelli che saranno i nuovi gestori e da lì partire con la fornitura dei nuovi mezzi ne dovranno arrivare eh più di duemila nuovi bus ed autobus investimenti sull'informazione quindi paline intelligenti applicazione investimenti in monetica eh quindi si apre una nuova stagione che sicuramente porterà anche un miglioramento del servizio l'ultima domanda eh dal governo hanno lanciato eh quello che dovrebbe essere un piano shock per le infrastrutture in generale eh chiaramente compatibilmente con questi giorni dell'emergenza Arezzo attende soprattutto il discorso due mari e non è l'unico eh potrebbe essere la volta buona anche qui ma anche qui credo che possa essere la volta buona eh perché eh Anas ha a disposizione eh sette otto milioni per la progettazione del nodo di Arezzo eh ha già selezionato eh lo studio di progettazione che dovrà sviluppare il progetto all'esecutivo da qui al 2022 quando il precedente governo ha eh dato l'appaltabilità che prima era 2020 è stata rinviata al 2022 a questo punto Anas sta lavorando per essere pronta con il progetto che è un progetto complesso che costa eh la cifra che ho detto che eh comporterà un investimento di circa 500 milioni è stato suddiviso in due lotti il primo lotto da San Zeno per arrivare eh in località La Magnanina e l'altro da lì per arrivare a Palazzo del Perro comunque complessivamente sono circa 500 milioni così come quasi 500 eh eh ammonta il fa bisogno per il lotto che dalle ville di Monterchi porterà alla connessione con la E45 anche se quello poggia sul eh compartimento Anas dell'Umbria essendo il tracciato per la parte più lunga appunto sviluppato in terra in terra Umbra eh quindi il fatto che il governo eh stava ragionando su eh investimenti come l'ha definito shock eh lascia ben sperare perché noi pensiamo che uno di questi investimenti debba essere appunto anche eh questo nodo di Arezzo del quale parliamo da decenni e che però aveva eh tra l'altro visto eh un eh progetto eh preliminare con un procedimento di via chiusosi favorevolmente nel duemilacinque era stata commissionata dalla provincia di Arezzo ora Anas ha ripreso quel progetto e lo sta sviluppando. Purtroppo eh ora tutti quanti stiamo eh eh si senta ad un'emergenza diversa che sicuramente non lascerà le cose eh come 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 quando ci siamo entrati eh l'economia sicuramente eh oltre che la sia volute eh ne avrà un colpo un colpo duro noi speriamo però che quando ci sarà da ripartire gli investimenti pubblici e gli investimenti in infrastrutture siano una priorità per recuperare e riprendere la via dello sviluppo. Allora in chiusura aggiorniamo che ci è arrivato il report dell'ASL della Toscana Sud-Est aggiornato con i dati aggiornati a ieri eh nella Toscana Sud-Est trentatré nuovi casi di cui diciassette nuovi casi nella provincia di Arezzo di eh Corona Vigos quattro limitatamente alla città di Arezzo e questo quindi è un trend che continua a crescere purtroppo. Io ringrazio molto l'assessore Vincenzo Ceccarelli eh buon lavoro anche in queste modalità diverse come per tutti e a presto grazie. Grazie grazie a voi che state svolgendo un lavoro importante particolarmente in questo momento dove le persone muovendosi di meno hanno però bisogno di essere informati. Buon lavoro. Grazie grazie a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.